Avrebbe tentato di investire col suo furgone un amico al termine di una violenta lite. Con questa accusa è stato arrestato un imprenditore di 43 anni residenti a Piazzola sul Brenta. Minacce e offese che secondo l'accusa sarebbero sfociate nell'epilogo. Che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia della polizia stradale di Padova e un'ambulanza del SUEM. La vittima, un 31enne di origine albanese, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella dove gli è stata riscontrata una frattura ad un piede.